Storia della razza. La storia della razza avrebbe potuto essere molto diversa senza i fenici. Questi commercianti marittimi dell'attuale Libano hanno navigato nel Mediterraneo 2500 anni fa con un'attività attiva nel settore dei beni di lusso. Si ritiene che i fenici abbiano diffuso i cani egiziani in tutto il mondo antico, fino alla Gran Bretagna. La teoria prevalente è che i fenici portarono il segugio del faraone a Malta, dove venivano usati come cacciatori di conigli. Nel 1979, il faraone fu nominato segugio nazionale di Malta. Ci sono prove che il cane dei faraoni si sia formato come razza circa 5000 anni fa nel territorio della penisola arabica. Furono portati a Malta da mercanti fenici. I cani del faraone, erano usati come cani da caccia universali, poiché possedevano le capacità dei motori di ricerca, dei segugi e dei levrieri. Si sono dimostrati eccellenti come compagni, ma possono davvero dimostrarsi solo a caccia. Cane dei faraoni, è forte e veloce, ha un ottimo senso e visione. Per secoli ha vissuto accanto a una persona. È usato come cacciatore versatile, principalmente per catturare conigli. Questo è un cane da caccia di origini antichissime. Le immagini del cane faraone si trovano nelle tombe dei faraoni egizi. Nell'antico Egitto, era così venerata, che fu persino imbalsamata dopo la morte. Giudichiamo l'aspetto e l'uso di questi cani in quei giorni principalmente da antichi disegni e geroglifici. Cane dei faraoni, ha portato nei secoli la sua passione per la caccia, e la sua straordinaria bellezza. Con le navi mercantili dei fenici, questi cani finirono sull'isola di Malta, dove per secoli, pressoché immutata, si conservava la tipologia di questi levrieri, ripetendo i loro lontani antenati. In Italia, questo cane non ha avuto molto successo. Negli anni 50 del XX secolo cane dei faraoni è praticamente scomparso. Ma la razza è stata salvata dagli inglesi, che vivevano a Malta. Portarono diversi cani in Inghilterra, e iniziarono ad allevare regolarmente la razza. Punti salienti e fatti interessanti. Il cane dei faraoni, è uno dei cani addomesticati più antichi della storia umana. Cane dei faraoni, è stato registrato nel libro genealogico dell'AKC il 1 agosto 1983. La prima cucciolata di Segugi del faraone, è nata negli Stati Uniti nel 1970. Aspetto? Questo è un cane piuttosto grande. L'altezza algarrese, è idealmente di 56 cm per un maschio, 53 cm per una femmina. La testa è cuneiforme, lunga, asciutta, cesellata. Il muso è forte, leggermente più lungo del cranio. Il passaggio dalla fronte al muso è appena percettibile. Il naso e le orecchie sono rosso-rosato e gli occhi brillano come lambra, ovali, leggermente infossati. Le orecchie sono larghe alla base, sottili e lunghe, erette, mobili. Il collo è lungo, slanciato, muscoloso, leggermente arcuato. Il corpo è sottile ed elegante. La gabbia toracica è inclinata verso le articolazioni del gomito, profonda e non larga. La coda è lunga, spessa alla base, ma si assottiglia fortemente verso la fine, è piegata come una falce quando si muove. Il pelo è corto e lucente con struttura fine e compatta che si trasforma in dura. Colore rosso di diverse tonalità. Si apprezzano sottili macchie bianche sul petto, sulla punta della coda, e sulle zampe, e sulla sommità della testa. Tratti caratteriali distintivi. Il cane dei faraoni, è una razza intelligente, facilmente addestrabile, giocosa e attiva. È socievole con gli altri cani e le persone, tuttavia, può difidare degli estranei. I cani di questa razza, di regola, sono molto aperti e affettuosi con la loro famiglia, e con coloro che conoscono, mentre il levriero ha una spiccata rabbia nei confronti della bestia. Sono di mentalità indipendente, a volte testardi, sufficientemente istruiti se vengono utilizzati metodi di insegnamento positivi appropriati. I cani faraone hanno un forte istinto di caccia e bisogna prestare attenzione se piccoli animali domestici come gatti, uccelli e roditori si trovano nelle vicinanze. Per natura, i cani di questa razza sono calmi e affettuosi. Non sono adatti all'uso come cani da guardia, poiché raramente sono aggressivi con gli umani. Sono troppo attivi e intelligenti per mantenere il recinto. Di norma, i cani faraone hanno un forte legame con le persone che li circondano, e si sentono meglio se vengono trattati come membri della famiglia. Usando. Il cane del faraone, viene solitamente cacciato di notte, quando c'è poca distrazione. In genere, i cacciatori portano i loro cani in campagna e rilasciano coppie maschi e femmine in ogni direzione della bussola. I cani cercheranno quindi la loro preda con l'olfatto. A quando vengono trovati, i cani si lanciano all'inseguimento, la femmina più piccola e più agile va davanti, e il maschio impedisce al coniglio di lanciarsi troppo di lato. In questo momento emettono un alto latrato, attirando altri cani e cacciatori. Quando arrivano i cacciatori, e gli altri cani, il coniglio cade quasi sempre a terra. Quindi i cacciatori raccoglieranno e legheranno tutti i cani tranne uno, e poi getteranno reti su tutte le possibili tane della fuga del coniglio. Infine, il cacciatore prende il furetto, con la campana attaccata, e lo colloca nell'ultimo ingresso della tana del coniglio. Cane dei faraoni, può sentire la campana a tre metri di profondità sotto un terreno roccioso. Quando il furetto spinge il coniglio fuori dalla tana, un cane libero si avventa su di esso. L'uso dei furetti, è menzionato da Strabone durante la caccia ai conigli nelle isole Baleari durante il dominio romano. Manutenzione e cura Cane dei faraoni vive di cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. I cani di questa razza sono indipendenti, intelligenti e a volte testardi, ma relativamente facili da addestrare con metodi di addestramento positivi. È una razza sensibile, e non risponde bene ai metodi di allenamento che utilizzano punizioni fisiche e coercizione. I cani del faraone, sono stati allevati per la caccia, e la capacità di pensare in modo indipendente è la loro caratteristica naturale. Si stancano rapidamente dei comandi ripetitivi, quindi il loro allenamento dovrebbe essere divertente e positivo. La toilettatura è facile. Strofina il cane con un guanto speciale, o un panno umido con movimenti abbastanza rapidi. Sono cani puliti, perdono poco e non hanno odore percettibile, anche quando il loro pelo è bagnato. Cane dei faraoni, è una razza attiva, i cani hanno bisogno di muoversi molto ogni giorno. A causa del loro forte istinto di caccia, e della loro natura indipendente, non è consigliabile lasciarli senza guinzaglio vicino a strade, autostrade o in aree aperte potenzialmente pericolose. Il loro istinto di caccia, è così forte che, dopo aver annusato la preda designata, si precipitano a inseguirla e nessun comando li fermerà. Questi cani saltano alla grande, e la recinzione dell'area in cui sono tenuti, deve essere alta almeno 1,52 metri. A causa della loro capacità di saltare in alto, i cani faraone sono ottimi per l'agilità, speciali gare di agilità. Poiché hanno un piccolo strato di grasso e pelo corto, questi cani sono molto sensibili al freddo, e non dovrebbero essere lasciati fuori per lunghi periodi di tempo quando fa freddo. Nei climi più freddi, si consiglia di indossare una coperta calda sul cane. Tuttavia, molti cani faraone amano giocare nella neve e mantenere il loro scambio di calore correndo, saltando e giocando. Salute. Il dottor Stepen Sipperli, presidente del Comitato Sanitario dell'American Parao Sound Club, osserva che i requisiti di certificazione per i parao s'includono lo screening per la displasia dell'anca e del gomito, la lusazione della rotula, e le condizioni oculari. I tumori più comuni in questa razza sono le mangiosarcoma, il tumore dei mastociti, e il cancro al seno, sebbene alcune di queste condizioni siano probabilmente legate all'età, e colpiscano tutti i cani, indipendentemente dalla razza. Guardando i risultati, posso affermare con sicurezza che cane dei faraoni non soffre di alcuna grave disabilità, afferma il dottore Sipperli. Questa razza ha una piccola predisposizione genetica alle malattie, e ci si può aspettare che viva tra gli 11 e i 14 anni. Prezzo e come acquistare correttamente. I cuccioli di questa razza sono piuttosto costosi. I bambini con un grande pedigre e possono costare oltre 1500 dollari. I cuccioli difettosi che non verranno utilizzati per l'allevamento costeranno 700 dollari. Poiché il cane è così raro, è molto difficile trovare un canile, o un allevatore professionista. Se questo ha successo, allora devi scoprire le recensioni sull'allevatore, familiarizzare con le condizioni per mantenere gli animali. La femmina che nutre i cuccioli deve essere ben curata e sana. La muta postpartum è consentita. I cani del faraone non dovrebbero essere costantemente nella voliera, poiché la comunicazione con gli umani e l'attività fisica sono vitali per loro. I cuccioli possono essere svezzati dalla madre a 1,5 al 2 mesi, ma è meglio aspettare fino a 3 mesi. I cuccioli sani sono socievoli, allegri e sempre curiosi. Il loro pelo deve essere liscio e lucente. Se il tuo bambino ha una pancia troppo magra o gonfia, questo è un indicatore di malnutrizione o presenza di parassiti. Non ci dovrebbero essere perdite dal naso del cucciolo. In un animale sano, è leggermente umido e fresco. Gli occhi dovrebbero essere chiari, il colore blu dell'iride è consentito, poiché cambierà con l'età. Il piede torto e la crescita eccessiva delle articolazioni, sono segni di rachitismo. Cane dei faraoni, piace con la sua grazia, forza, reazione rapida e incredibile devozione al suo proprietario. Poche persone rimangono indifferenti alla vista di questo animale armoniosamente costruito, quindi, il cane del faraone per diversi decenni è in cima alla lista delle razze canine più richieste e costose. Linea di fondo. Il cane dei faraoni, è una razza canina classificata dalla Federazione Cinologica Internazionale come cane primitivo. A volte è indicato come un levriero. Razza nazionale di Malta, dove è chiamata Keltal Fenecke significa cane coniglio.